La vista è Sportorino. Ritira il premio Marco Portinaro, presidente di Sportorino. Questo è un portale rivolto alle associazioni sportive torinesi, sportorino.it appunto, che vuole mettere in relazione cittadini e associazioni impianti per offrire un servizio di informazione gratuita online. Su Sportorino si possono trovare tutti gli indirizzi, i numeri in telefono, le informazioni su orari e prezzi delle diverse attività sportive per normodotati e disabili. La piattaforma Sportorino permette di cercare lo sport vicino a casa o all'ufficio, di scoprire le attività svolte dalla singola associazione e contattarne rapidamente al centro. Passiamo ai vincitori. Il primo vincitore sono tre.